Domanda per il pubblico, come fa un gramofono, come questo, senza corrente elettrica, senza batterie, a far sentire l'audio? Allora, con la manovella si carica la meccanica, che fa girare il disco, ma l'amplificazione dov'è? Avviene in maniera semplicissima, per via meccanica, un ago da cucire, stecchetto da spiedino, un cartoncino, nero, l'ago, mosso dai solchi, fa muovere il cartoncino, il cartoncino muove l'aria, l'aria produce il suono. Ma dai! Provare per credere. No! Ma non è stereo! E beh, stereo! Buonanotte! E invece provo a mettere questo, la puntina su originale, cosa succede? È scarico! È scarico! È un po' scarico! Ok! Ah, ma si sentiva però! E con che potenza? Cioè, questo qua, in una balera, lo senti, eh? Ma perché adesso lo sentiamo? Perché la puntina ha un piccolo amplificatore? Perché è la stessa cosa, la puntina fa muovere dentro una membrana, la membrana manda l'aria nel tubo, il tubo fa vibrare la cassa, come la chitarra, se tu suoni una chitarra elettrica senza corrente, non senti quasi niente. Se tu suoni una chitarra acustica, perché senti? Perché fa vibrare la cassa acustica, che è di legno, e quindi amplifica il suono, fa muovere l'aria e amplifica il suono. Non c'è il rio, non c'è il rio, non c'è il rio. Non c'è il rio, non c'è il rio.